Noi partiamo da qua dopo, facciamo così, e andiamo su qua, a Reims, Leon, andiamo su Arras e adesso siamo fuori scala, circa da lì, circa da qui Allora, vediamo dove c'è la casa di un colpo Allora, vediamo lì, vediamo questo logo che ha circa 50 anni E' Fugio Invento e la scrive il padre Napoleone Tricchero E' Fugio Invento Grazie 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 Agripta Possiamo individuare i passaggi segreti Agripta Perakille in Ippi, URRA, Ippi, URRA, Ippi, URRA. Strava, torta per il mezzo. Strava, mirare! Guarda bene, scompare di nuovo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sì! Sei sforza di più e poi lì è ancora più male e poi non camminare. Dopo almeno. Adesso diciamo che dopo cominciamo. Grazie a tutti! 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 Noi sono Vinodok. Solo cose di qualità. Montepulciano da Bruzza. Nooo! Ma ti manca un particolare? Montepulciano da Bruzza? Nooo! Ma ti manca un particolare? Montepulciano da Bruzza? Noooo! Saluto in camera! Come faccio a scopare Michelostone? Eh potremmo... Vorrei, io vorrei, ma... Una tesi di laurea ci penso! Auro che cazzo hai, tu con la tua tesi mi faccio scoparci lo sto!